ciao ragazzi oggi faremo sfidare il mitico mister muscolo pensa nicolò che era un giocattolo che c'era già quando papà era piccolo è nato che non era neanche nato anch'io è più vecchio di me mister muscolo ma è rimasto in forma giovanissimo ha visto quanto lo può allungare e sai qual è il suo nemico è vatman guardalo è un robot che viene dallo spazio è cattivissimo e c'è anche una pompa con cui si può togliere l'aria così lui si riempie tutto di pustole visto queste pustole sono schifose con già che combattono ragazzi voglio aprire per primo mister muscolo mister muscolo partiamo con i buoni allora vai iniziamo dal giro di scatola così pesante che non bravo è così che ci vogliono i muscoli bravissimo occhio all'uscita di mister muscolo eccolo qua conservato di un prezioso sacchetto ecco mister muscolo senti quanto è pesante non è snodabile perché allungabile proprio gli possiamo far assumere tutte le forme che vogliamo è massiccio e ha solo le mutande visto trova a tirarlo vedi qua forza dicolo grandissimo bravo hai visto che si allunga guarda la forza di mister muscolo e adesso se noi lasciamo il braccio così hai visto che torna normale la testa invece solo si gira destra e sinistra risponde solo di no mister muscolo ma gamba tira forza forza vai nicolò hai visto che lungo anche i piedi si possono tirare e poi ritorna ritorna sempre della stessa forma e anche veloce vai nicolò bravissimo vai tira ma è dura è dura con mister muscolo bravo bravo poi volendo si può giocare anche intrecciare le sue non vuoi mettere così oddio difficilissimo di attivarli sulle gambe così ok gli tengo le gambe tu incroci le braccia una gamba un'altra gamba si gira anche gli tengo le gambe così tu incrocia le braccia bravissimo quella è la posizione giusta tira tira nicolò forza bravissimo io incrocio le braccia ok tieni fermo anche questo braccio qua ce la fai ok tieni fermo io tiro questo adesso facciamo incrocio di qua ok siamo riusciti ecco lui ragazzi dobbiamo mollarlo guardalo pronte visto come messo sembra un notatore che fa un tuffo occhio anche con le gambe separate possiamo anche esagerare e fargli fare il giro della testa con le gambe come posso lasciarlo guardalo eccolo bene ecco l'altra gamba abbiamo perso un braccio però hai visto è tornato già normale vediamo provo lasciarlo così lasciamo così vediamo cosa succede la gamba si alza incredibile questo braccio si alza attenzione che ti colpisce mister muscolo che fortuna è morbide allora guarda 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 che prendendo questa zamba hai visto zampa questa gamba si alza e lui torna normale riprende la sua forma da mister muscolo hai visto che troppo normale è seduto è seduto se ancora però un po le pieghette qua aspetta che si sta rimettendo in forma guarda adesso ti metti in piedi e proviamo a tirarlo così tu tieni una mano piede io tengo un'altra mano l'altro piede proviamo tira tira tento non cadere tira 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 è faticosissimo ti vengono i muscoli guarda che si è allungato però hai visto è più grande o si sto smontando non schiacciargli le mutande ti ho visto no non schiacciargli le mutande no povero mister muscolo però se tu gli schiacci il sedere ritornando male anche quello hai visto perché lui è tutto a memoria di forma si dice ritorna come hai visto che il sedere è duro mister muscolo è così forte che quando fai gli sforzi fisici la sua faccia è sempre impassibile l'hai visto lui non fa lui sta sempre così proviamo noi faccia è impassibile è impossibile attorcigliamo attorcigliamo secondo te è un anno normale proviamo dici vediamo guarda quanto l'ho attorcigliato e occhio sembra un fusillo guarda sembra la pasta attenzione guarda che pian pian pianino la gamba si gira non ci credo mister muscolo riesce a liberarsi anche da questa posizione impossibile facciamo così mentre mister muscolo si libera noi apriamo il suo grande nemico così lui è concentrato non si accorde che apriamo back è tutto rosso arriva dallo spazio è cattivissimo si dice che sia un robot dice che sia puzzolente dice che sia super forte sta arrivando ma non si è accorto non si è accorto non si è accorto bene ok estrai back man vediamo quanto pauroso è ma fa nella confezione c'è anche la pompa per togliere l'aria questo è back man vediamo se riesco a liberarlo arriva anche lui in un astronave di cellopan vieni back man è bruttissimo senti hai fatto di pustole è pustolissimo con questa pompa l'area si toglie non si mette questo vuol dire che con questo aspiriamo l'area che c'è dentro ma rimettela basta schiacciare il bottoncino che c'è qua schiacciando questo bottoncino lui riprende l'area dall'esterno non tirare mai la testa di bakman non torcere mai l'acqua non lasciare bakman al sole poverino è già tutto rosso non punzecchiare bakman con oggetti appuntiti tenerlo lontano dall'acqua non annullatelo al braccio allora uno inserisci la pompa nella testa vai inserire la pompa nella testa qua al fianco inserire i buchini lì e poi girare un pochino di modo che si incastri vediamo così ok adesso incastra pompa da 16 volte vai uno due tre sono le pustole quattro vai ancora cinque cinque guarda che pustoloso sei direi che ci siamo sei più che sufficiente ok togliamo adesso è pustolosissimo guarda è tutto duro è pustoloso a che senso che fa bloccata la pompa tira e metti in posa poi premi il bottone per rilasciare l'aria e fanno tornare la sua forma originale vuoi provare subito proviamo dai hai visto che riprende l'aria è tornato normale tanto non normale a me piace pustoloso però eh fai provare qua la pustola qua vediamo allora vediamo cosa succede guardalo diventa pustolosissimo 4 5 6 7 8 durissimo 9 10 adesso si tira vai guarda è tutto un muscolo di pustoloso senti il rumore tira senti che rumori guarda che lungo che è diventato terribile è proprio spaventoso fai vedere nicolò il tuo braccio vai lancia tira come il tuo braccio se fanno tornare normale bisogna ridargli l'aria perché altrimenti lui resta in posa hai visto è che in questa cosa qua anzi più lo tiri più ricambi apposa hai visto le braccia lunghissime neanche le gambe può diventare gigante quindi eccolo ora che lungo secondo me mister muscolo fa molta paura di questo supereroe dallo spazio guarda che grande che è sono batman sono grandissimo sono pustolosissimo ragazzi è incredibile mister muscolo fa vedere nicolò si è rimesso come sta la sua gamba bene sono pronto alla battaglia anche batman è pronto sono arrivato dallo spazio solamente per te mister muscolo è arrivato il momento di rubarti le mutande perché io non ce le ho è arrivato il momento di scazzottarti vediamo chi è il più forte sei forte mister muscolo salti anche se preparando un super pugno ti vedo cosa c'era era un super pugno proprio super calcio qua trotto terribile mister muscolo super calcio in pancia non si fa abbraccio stringente come no lo scudo di forza mutanda vero me l'ero dimenticato ecco perché io voglio quelle mutande lancio di pancia adesso ti sparo col mio laser lo metto sotto braccio attento lo scudo di forza no è arrivato il momento di vedere la trasformazione l'inserimento della pompa 1 2 no ho perso la pompa rinserimento della pompa 2 3 4 5 6 trasformazione 7 8 9 e 10 adesso non dovevi farlo adesso mi metto in posa grandi braccia grandi gambe prendi mister muscolo grandi gambe eccolo ti ho preso ti ho preso mister muscolo è una battaglia durissima ragazzi chi è il più alto adesso che male dicevo chi è il più alto adesso mister muscolo il mio calcio come il tuo calcio vieni qua testata ahia ho preso la mano che sbancata che male no dammi le mutande dammi le mutande è arrivato il momento di alzare la famosa mano bianca aiuto non ce la faccio più va quando è stato sconfitto alziamo la sua mano bianca è scoppiettosa mi alzo allora ci ho detto non è anche seduto caro mister caro mister muscolo ho deciso che sei veramente tu più forte ti va solo per un attimo di prestarmi le tue mutande? no quando le uvi ti fanno dormire ah ok hanno il potere del sonno su di me si sui altri hanno potere del sonno no allora sono venuto per niente su questa terra no sono venuto per prenderle mi sa che è meglio che me ne torni da dove sono venuto preparazione e configurazione di volo assunzione dell'aria attenzione adesso torna normale guarda 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 che ritorna normale sono pronto per scappare ragazzi fateci sapere nei commenti qual è il vostro preferito se preferite mister muscolo oppure quel pustoloso di vatman metteremo anche qui sopra un sondaggino ragazzi se questo video vi è piaciuto potete mettere un pollicione ci vediamo qui ai prossimi video su giochi per bambini e ragazzi ciao 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 ciao